Abbandonava sistematicamente rifiuti e materiali edili sul carso portandoli a banne con un furgone chiuso e senza segni distintivi. Una donna di origine serba di 47 anni residente a Trieste è stata identificata e denunciata dalla polizia locale. Dal mese di maggio dello scorso anno fino ai primi mesi del 2023 spiega il comando in una nota il campo carro di banne è stato oggetto di cospicui e ripetuti abbandoni di rifiuti anche di grandi dimensioni. Materiali edili, vetri, tubature, plastiche, un potenziale pericolo per persone e animali oltre al deturbamento del paesaggio di una parte del carso. La polizia locale di Trieste ha avviato perciò un'indagine per individuare i responsabili attivando un sistema di vigilanza interforze con l'ausilio del corpo forestale regionale e della stazione dei carabinieri di Opicina. Fin da subito gli investigatori hanno ipotizzato potesse trattarsi di una sola persona considerando la quantità, la similitudine nella tipologia dei materiali e la frequenza degli abbandoni. L'indagine svolta attraverso l'analisi dei rifiuti abbandonati, appostamenti mirati e incroci con diverse banche dati ha consentito di individuare la donna che prevalentemente in ore serali si recava in carso con un furgone anonimo per scaricare ogni sorta di rifiuto. La polizia locale le ha combinato sanzioni per un totale di 2000 euro per l'abbandono dei rifiuti e il transito in area boschiva. A questa si aggiunge l'obbligo della polizia dei luoghi a sue spese entro 15 giorni dalla notifica dei verbali. In caso di inadempienza il comune emetterà un'ordinanza di pulizia alla quale seguirà una denuncia penale in caso di ulteriore inosservanza.